E viva il silenzio che allena la mente, Oriente, Oriente. Importante visita oggi pomeriggio alla Nazione, dove è arrivata una delegazione cinese del Limbo Daily Group. Obiettivo? Stringere rapporti ancora più intensi col nostro gruppo, la Poligrafici Editoriale. Sono anni che tra le due realtà è stata attivata una collaborazione che adesso, oltre al giornale cartaceo, coinvolgerà anche i siti internet. Ma la visita è stata anche l'occasione per definire l'arrivo, il prossimo ottobre, di una copia in bronzo della statua di Dante che si trova in piazza Santa Croce a Firenze. Così a Nimbo, dopo la copia del David, sbarcherà anche quella del Sommo Poeta. Per lui una location veramente eccezionale. Sarà infatti posizionato davanti alla più grande biblioteca del Medio Oriente.